Ciao, io sono Ale. Benvenuti e benvenuti in questo mio nuovo video. Questa sera sono qui per fare un'ambulso di un nuovo arrivato qui sul canale. Ossia, lo zoom H8. Adesso ho posizionato qui il microfono, il Tascam, per registrare l'audio. Infatti sentirete la voce un po' più lontana perché qui davanti ho il... ho lo zoom, ho la scatola dello zoom e praticamente poi vi racconterò un po' meglio la storia. Però in poche parole io e Wilby e Sara del canale Wilby ci siamo sentiti in questi giorni, anzi nelle scorse settimane, perché lei voleva acquistare un nuovo microfono per il suo canale. e in fin dei conti ci siamo un po' confrontati sulle nostre idee, eccetera... per una serie di fattori che ci hanno... che hanno fatto prevalere una determinata scelta, ecco. Quindi eccoci qua, con la zoom H8 da unboxare, direi di partire e di aprire subito. E poi subito troviamo i manuali di istruzione, con ad esempio qua tutto ciò che contiene la confezione, e quindi il corpo del registratore, la capsula del microfono, la guida e tutte le varie altre cose come le batterie, e poi tutti i vari manualini, manualetti per le istruzioni, per le istruzioni. Ma questi, oltre a fare un po' di suonini così, non sono interessanti in questo momento. Ma eccoci, arrivati di fronte al pezzo monte, ossia il fantastico microfono. Allora direi di partire dalla parola centrale. E' piuttosto grande rispetto al Tascam, ed eccolo qua. Questo mega, 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 mega microfono. Guardate quanto è bello. Se riesco metto la favore di camera lì qua. Vi mostro direttamente da qui, questi che sono tutti i vari comandi da usare nel caso in cui si vanno a collegare dei microfoni, con tutte le entrate esterne qua e di qua, su tutti i due lati. E poi il mega, 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 mega schermo touch, con tutte le varie regolazioni, eccetera. E poi i tastini qua sotto. Che roba. E' pazzesco, perchè poi molto molto spesso rispetto al mio Tascam. Super bello. Poi qui ha la copertura e dopo all'interno ci sono i vari connettori per collegarlo al microfono. Ma ora lo vado a usare. Poi l'altro pezzo fondamentale sono queste mega capsule. Sono veramente gigantesche rispetto a come me l'immaginavo. Con qui anche la chiera per regolare il volume in entrata, la sensibilità. Stupendo. Cliccato. Non vedo, non vedo, non vedo, non vedo assolutamente l'ora di andare a provare questo nuovo microfono. E scusate se avete visto dei tagli, ma ho avuto un po' di intoppi con la seconda inquadratura. E' ancora deciso di eliminarla, perchè da vari problemi. Ok, bellissimo ragazzi. Tra l'altro è pesantissima anche questa parte perchè questi sono tutti in alluminio o forse in acciaio, non lo so. Sì, in effetti dal peso, però non è stupendo. Anche questo lo vado ad appoggiare sulla plastichina in maniera da non andare a distruggerlo, mi raccomando. E poi, infine, sono presenti le pile, delle classiche pile, ma adesso non ve le sto a mostrare comunque. delle classiche batterie così stile, se non sbaglio, che in totale sono quattro perchè appunto questo somma ha bisogno di quattro, 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 quattro batterie. Come vedete in confezione non c'è alcun tipo di filtro o antipop o cose del genere, ma ho già provveduto io ad acquistarne apposite appunto perchè comunque sono assolutamente fondamentali. E niente, quindi vi faccio rivedere ancora il corpo dello zoom del registrator che è enorme, enorme, enorme. E questo qui vi rimostro, vi rimostro bruttissimo, vabbè, vi mostro nuovamente tutti i regolatori deboli. e questo qui che è lo schermino e anche i tastini qua sotto. non vedo davvero, non vedo davvero, non vedo davvero, non vedo davvero l'ora di provarlo assieme a voi e questo ovviamente accadrà nel prossimo video, ossia quello di lunedì. lunedì, 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 quindi lunedì aspettatevi un super mega 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 test di questo nuovo zoom account. mi ha detto questo, spero che questo breve, 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 brevissimo unboxing vi sia piaciuto. e scusate se ci sono stati parecchi tagli e comunque questo è un video extra che ho voluto far comunque uscire per annunciarvi che la novità di cui vi parlavo era proprio questa qui. e quindi ci vediamo direttamente lunedì con un nuovo video. Ciao!